E ci siamo amici biscotti, io sono Andreoreo e oggi sorprendentemente siamo su Minecraft ma vi devo prima fare un preambolo su questo fantastico gioco, per questo fanta... Allora, sinceramente non capisco perché, non riesco a metterlo a schermo intero ed è un'ottima cosa, anche perché odio queste due barrette qua sopra e una qua sotto con l'orario e anche il giorno, che è oggi Per chi non lo sapesse, io non ho mai, e ripeto, mai giocato a Minecraft, perciò questa sarà tipo una blind run per me Andreoreo, ok, sopravvivenza, difficoltà normale, comandi no, penso che vada tutto bene, perciò 3, 2, 1, crea mondo E ci mette un po', hm Dai, dai computerino, dai computerino, mi sa che intanto mi farò un pisolino Ok, sono riuscito a togliere almeno la barretta di sotto, nel senso se ci vado si apre ma chi se ne frega Comunque, eccoci nel mondo di Minecraft E sta ancora caricando, ottimo Questi sono i miei primi spazi, eh sì i miei primi spazi, i miei primi passi E se premo barra spaziatrice appunto salto E qua cosa posso fare? Posso anche arrampicarmi e cadere, e cadere Ok, penso, penso, penso che come prima cosa prenderemo un pezzo di terra e la chiameremo Jimmy Ah, ti voglio bene Jimmy, come si fa? I, I, Q, no, Q, no, aspettate eh, aspettate R, T, ti scrivo, T Ciao mondo Ciao mamma Sono su Youtube Ok, tiene premuto il tasto sinistro su Su un albero per distruggere l'albero Controlla il ricettario E, ok, però, M, N, E, B, U, B Ok, forse devo guardare i comandi Ok, è la E Ok, è l'unico tasto che ho saltato Ho fatto Q, W, R, T, Y E non ho controllato la E Tronco della giungla Se non mi sbaglio, se lo piazzo qui Mi dà del legnetto Ah sì, della giungla Ah sì, della giungla Ah sì, della giungla Perciò devo spaccare altra legna magari Perché penso che mi serva Controllo il ricettario L'ho già controllato Gioco, non mi... Prendere in giro per favore Ok, che non ho mai giocato a Minecraft Ok, che è la mia prima volta Ma, per favore, non mi prendere in giro E si distrugge l'albero Se solo abbatto del tutto No, no, sì Sì, ho visto un pezzettino Sparire Almeno Sì, sì, pian piano sparisce Ah, non sapevo sta cosa Fico ficata Allora, e... Abbiamo ben sei querce Abbiamo tanto legno Ah, sono due legni diversi Ah sì, assi di quercia Ah, ok Ok, ok Così mi abbasso E così corro Intanto volevo una zona un po' più Praterosa Perché Avere tutti questi alberi attorno Ma ci sono anche i pesci Cos'è? Questa è una trota salmonata La riconosco Sì, perché ha le classiche striature Da trota salmonata di fiume E... Prima o poi si andrà anche a pescare Oh... La fatica La fatica La fatica è rima Ok Ok Volevo una zona un po' più Un po' più tranquilla E qui c'è anche una grotta Allora, aspettate, aspettate Troppe cose tutte assieme Ok E... Penso che... Ok Il banco da lavoro Cioè, ho visto alcuni video Sinceramente Nel senso Fin troppi video Ok, si apre con questo E... Un bastoncino Ok Un bastone Controlla il ricettario Abbiamo un ricettario Ah Facile così Ah ma ce le mette già anche Veramente? Eh Posso fare una barchetta? No, perché non posso fare una barchetta? Cioè, scusami Io ho tutto il legno necessario Perché non mi fai fare la barchettina? E... Questa la posso distruggere? Perché è l'unica che ho fatta E la vorrei portare come La chiameremo Peppiniello Eh Fatemi andare in barca Aiaio Cioè Mi sono spaccato le ginocchie Per fare questo saltino da due Cioè, nel senso No Va bene Va bene gioco Così E no Così Che fico ficata Wiii È un arighino Mighino Minini Minini Fast infurions Ok No, no Non mi devo perdere In chiacchiere E in boiate Qua vedo Cosa vedo? Cosa vedo? Le un Cosa vedono? I miei occhi da ilfo Un porcellino E Della roba da rompere Delle canne da zucchero E come scendo? Me l'aveva detto Gioco Ok E la posso spaccare Come si prende? Ok Ripresa, ripresa Anche perché non so se le risorse sono Importanti o no Perché andiamo pian pianino? Che cacchio ho attivato adesso? Ah, ok Con shift A quanto pare Non posso andare oltre i bordi Ok Ok, questo sarà Un'ottima cosa Perché Vedo anche un villaggino Andiamo dal villaggino Forse mi sto perdendo Un po' troppo nel gioco E forse dovrei iniziare A fare cose un po' più interessanti Tipo scavare Perché so che in questo Gioco si scava tanto E a noi piace scavare Come dei Bravi nani Ok Facciamo un drift Selvaggio Drift E scendiamo in volo Riprendiamoci la barchettina Barchettina Vieni a me No, no Barchettina Oh Ho attivato shift Ok Ripresa la barchettina Anche perché è l'unica che abbiamo E non vorrei perderla Abbiamo anche una casetta No, aspettate Non l'apri in automatico Col click destro Ok E Del pane Ah Nice Nice Siamo già Già Perfetti Direi di rubare Rubabile Mi chiameremo Ladro reo Me l'ha già preso Sì Yes baby Una casetta in Canada Ma Potremmo usarla come base segreta No, non mi piace la zona Sembra fatta di fango e sterco Perciò no, non mi piace la zona Comunque 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 Dovevo fare dei crafting Allora Posso fare Una barca con Con il baule Veramente Ah Non lo sapevo Però abbiamo finito il legno No Ah no Aspettate Ci serve la crafting table giù Allora Piazziamola Apriamola E facciamo un piccolino Un piccolino piccolino Cioè un piccone piccolino Piccolino piccone Riprendiamocela Ok Ok Controll Non ditemi che ogni volta Avrò questa roba Oh che odio Vabbè Vabbè Prima o poi sparirà Prima o poi il gioco si stuferà Di darmi dei suggerimenti Poco interessanti Non siamo Olio a cuore A quanto pare Olio a cuore No A quanto pare Dobbiamo prendere ancora un po' Di olio a cuore Ok Devo imparare i tasti Devo ancora prendere Dimestichezza con i tasti Ok Ah qua è un villaggio Un villaggio E lì vedo Una grotta Ai Non sono abituato Ai danni da caduta Vedo anche una grotta Allora Sinceramente Io Non so cosa devo fare In questo gioco Cioè nel senso Non so neanche se ci sono Degli obiettivi O dei Quest O Roba Perciò andremo All'esplorazione A sto giro Anche perché così Imparo un po' Come funziona il gioco Come picchiare Le paicure I picuri Madonna ma Cioè nel senso 50.000 pugni Gli ho dovuto dare Ho anche dei livelli Sì ho anche dei livelli Controllo il ricettario Non voglio controllare il ricettario Lasciami stare gioco Voglio esplorare Blind run Cioè nel senso Senza sapere nulla Oh Ma qui c'è tipo Un buco Come si scende Più velocemente No ho paura Dell'acqua Come si sale Gioco Mi fai salire Ok Ok con la barra spazietrice E sto già prendendo danno Via 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 Ossigeno Allora mi sta anche cadendo la cuffietta Comunque abbiamo un piccone Abbiamo tanta voglia di esplorare Però qui vedo un salto Che mi sa che ci uccide Come risalgo Mastro carpentiere A noi Allora saltiamo di qua Oh io sono un esperto di terraria Non posso farmi battere Da un gioco come minecraft Allora Saltiamo di qua E evitiamo cadute imbarazzanti Lì vedo qualcosa di interessante Ole 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 E anche qui vedo qualcosa di interessante Che cos'è? Sembra tipo del ketchup Che è andato un po' a male Lo posso prendere? Con moolta tranquillità Tanta tranquillità Opla Che cos'è? Cosa mi ha dato? E Un frappolo di nulla Te ringrazio gioco Mi hai abbastanza perculato Ho detto una parolaccia Forse lo dovrò bippare Età della pietra Ok ok Si cioè So che ci sono vari Come in qualsiasi altro survival Vari livelli di Di oggettistica Nel senso Io adesso ho il piccone di legno E Prima o poi potrò fare Il piccone di ferro Il piccone di pietra Il piccone di Diamanti Sì perché è il classico meme Del piccone di diamanti Di minecraft Dovrebbe esserci Il piccone di Metalli Ma Ma Allora Ripiazziamo la nostra Il nostro banco da lavoro Ok Allora Lo piazziamo Qui Lo apriamo E Qua Ah vabbè mi da già il crafting Ottimo E facciamo già un piccone di pietra Che fa Danno Tre Danno per colpo Due Velocità La velocità è uguale Ok Un piccone di coso E no Non voglio controllare l'inventario E Le Ok Vorrei capire come Diminuire Il Lab del gioco Nel senso Vedo tutto un po' troppo grande Per i miei gusti Però va bene così Madonna che Parkour Parkour Ok E' già finita la grotta Ah no E' tipo il fosso di helm qua Cioè nel senso Il pertugino Per andare nel fosso di helm Oh Qua vedo roba interessante Che cos'è Pip Pip Che cos'è questo Ehm Non mi fai vedere che cos'è Un po' di Di su e giù Lo vorrei prendere tutto Anche perché A quanto pare ci da dei livelli E penso che siano utili i livelli Cioè nel senso Non so bene a cosa servano Però Penso siano utili Spero siano utili Ma Scrivetemi nei commenti Cosa si fa Come non si fa E come si gioca a sto gioco Anche perché effettivamente appunto È una blind run Io Non ci ho mai giocato Ed è un po' bubietto Fatemi vedere E Cosa posso fare Che cos'era Carbone Immagino che col carbone Si faccia la torcia Ho sentito rumori strani Devo avere paura Penso di sì Penso che io Devo avere paura Concedetemi un po' Di paura Ok E ok Ho preso tutto il carbone E direi di Andar via Anche perché è buio Io so che il buio fa male Però io Non ho paura Perché sono Andreoreo L'implacabile Allora Mi sa che ci dovremmo fare un'arma I No E E E E Non ci sbagliamo Signori Qui c'è il mio banco Da lavoro Piazziamoci il banchetto Da lavoro Vediamo cosa possiamo fare La spadozza di pietra Ok Abbiamo anche più pagine Ok Il quadro La scala pioli Perché si sa che pioli is on fire Na 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 Pioli is on fire E Prendiamo tutto Oh Oh Macca miseria Aiaio 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 I miei piedi di pazzerelli I miei piedi di pazzerelli Non posso morire al primo giro Ok 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 E Benvenuti amici biscotti Siamo qui su minecraft Non si La mia prima partita E Guardate adesso Per la prima volta Prendo un pezzo di legno Oh ma Che divertente prender Oh Oh Ok Ho capito che Gli scheletri ci fanno male Anche perché effettivamente Nel senso Non so quanto danno Gli stavo facendo Non so se era tanto Poco o medio Io Penso di non avere armature Cioè nel senso Come faccio a vedermi I I E E Non ho armature Ok no Così mi viene mal di mare Allora Dove siamo noi Non c'è una mappa Penso di no Ottimo Allora Qui Riconosco la Riconosco il lago Riconosco il laghetto Ma ho perso anche la mia barchetta Ho perso anche il mio blocco di 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 fango Sono un uomo tristo Ok ok Aspettate Aspettate Lì vedo i maialetti di prima Perciò forse possiamo ritornare Di nuovo Dove eravamo prima Riprenderci la nostra roba E magari Far fuori Quello scheletro infame Che ha usato Attaccarci Ok Abbiamo preso un fiore Chi trova fiore Non lo lascia più Abbiamo preso Le canne da zucchero Con le canne da zucchero Mi devo ricordare Che è l'hai Ci possiamo fare lo zucchero Ah Interessante Non sapevo che Questa cosa Effettivamente Non sono Studiato in chimica Non sapevo che le canne da zucchero Dessero lo zucchero Cioè pensavo Dessero il sale Sapete Battute Brutte A parte No C'è tre C'è tre C'è tre sinistre Per correre Via 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 Me le driblo Oh no Un altro scheletro Lo scheletro non mi piace Ma si stanno Ammazzando a vicenda O a Vicenza O a Piacenza O a Bitonto O a Pordenone Questo cos'è La zucca immagino Cioè nel senso Controllo il ricettario Ma io dovrò sempre avere Questo messaggio Del controllo Il ricettario Comunque Si può entrare Signor E occupa Disturbiamo Cacchio non ho più il letto io Come ci si può No Io volevo dormire Cioè non si può dormire Per saltare Il buio Buongiorno No grazie Io Io credo In Cthulhu Il nostro grande signore Cthulhu Non mi interessa Di Dio Gesù E altri Ma io se faccio Via 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 Scappa 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 Fuggite Sciocchi Fiumi Pdpax Rally Non possono nulla Contro la mia velocità Preso un fiorellino Opla Opla Ok Diavolo che male Ricono Oh ditemi che si può fare Ok Questa è una figata Lanciare le uova È sempre bello Allora Ditemi che posso recuperare Tutta la mia roba Per favore Perché Ok che era poca È brutta Però era la mia E la mia roba È la mia roba Allora da dove ero sceso io Da qui Ok Vedo le luci È bella la luce No Di qua Ci Via 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 che c'hanno zombie Diavolo Allora Dov'è la mia roba Allora Qua ci posso saltare Sì Dov'è il fosso di helm Ok ok Ho ripreso tutta la mia roba Mettiamo subito la spada Perché qui Il buio Non ci fa paura Ma gli zombie sì Spadozza E Ok Ok Nice Cacciatore di mostri Yes Sì Dovevo fare col 2 Ma va bene lo stesso Allora Cacciatore di mostri Ok Direi che Si è messi anche abbastanza bene No No Ok Madonna che fatica a saltare Oh Qui vedo dell'altra roba E Where is piccone Piccone is Under The table Cos'è Che roba ho preso signori Ferro grezzo Aspettate Posso prendere anche questa adesso Che figo Aiaio Aiaio Oh oh L'anima L'anima è lì Ah se carico Ok Ok ho capito Se carico al massimo questa Che pensavo fosse una barretta storte In verità è una spada Cioè L'ho capita adesso Se la carico al massimo posso far più male Forse se mangio Mi Recupero vita Vediamo Mettiamo il pane Si mangia col destro Ok si Si recupera vita Un po' più velocemente Prendiamo questo Prendiamo questo Che Penso che a sto punto sia rame Considerando che è rosso e verde E di solito il rame quando ossida O comunque Quando prende un po' di inderperie Diventa verdognolo E Rame grezzo Allora Ok saltiamo di qui Saltiamo di qui Però come faccio a A cuocerlo Cioè nel senso è grezzo Aspettate Aspettate che adesso Prendo il carbone Perché mi sa che Ho una mezza idea di quel che si dovrebbe fare Ok Ok E ok Tutto il carbone Tutto Tutto Ah la luna La luna che guarda le stelle Gli altri astri Volevo dire una frase Fantasti Ma non mi è uscita la rimastri Ok Entriamo in casa di tizio calabro Ok Ah ma si può dormire Perché prima non mi ha fatto dormire? Gioco Mi hai un po' C'è un modo per prendere tutto? Subito? No Prendiamo Le patate Le patate Le patate Con il mezzo Manzo team Forse i più giovani non si ricorderanno di E Arboscello di quercia No Chi se ne frega No dai Prendiamo tutto Se la spacco esce fuori la roba Sì Ok Buongiorno mondo Dobbiamo trovare una zona dove far casetta Ah pensavo fosse un maiale volante Invece no Ci sono anche le appone Madonna se questa ti prende ti Penso che ti faccia male Aio Mi ha dato qualcosa di strano Cosa mi ha fatto? Aiaio Ok ok Oh maronna Ehi In volo Dai dai Scendi giù Scendi giù Oh 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 Cacchi ma sto morendo Ok forse è meglio mangiare e scappare Via 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 Ok le api fan male Cioè Penso che A rigor di logica ci sarei arrivato Comunque ma le api fan male Ed è meglio lasciarle stare Ok Mi piace questa zona Mi piace questo Pertugio sul lago E lì vedo anche un bocchino Per andare Nell'underground Ma è posizionata bene la telecamera Sì sì Dai più o meno sì Ok Mi piace Mi gusta questo Tipo Vulcano un po' rotto Un po' esploso Ma Potremmo farci casetta lì Allora Mangiamo Il nostro pane Perché Chi ha il pane non ha i pesci E chi ha i pesci non ha il pane E noi non abbiamo Non abbiamo i pesci Ma abbiamo il pane Ok E 3 2 1 Aspettate aspettate No 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 I have a barchetta Olè Barchettina Ok E' un po' Un po' fatica a capire Come funziona sto gioco E Tokyo Drift Uii Madonna Penso che potrei stare ore Tipo a guidare E a driftare così Importante non fare incidenti Opa Ok Si scende con Shift E sì Mi piace Mi piace Potremmo farci la nostra base segreta qui Comunque da sulla prateria Lì Piccolino piccolino Vedo il villaggio Qui vedo queste catene montuose Che mi ricordano molto Delle catene montuose E qui vedo anche Un passaggio segreto Per Una caverna Ok Saltiamo Aspettate Ok Devo metterne un altro Mi devo spostare Ok Allora Allora direi Di iniziare a fare un po' Una casetta carina carina Scavare Ok 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 Anche perché siamo stati fortunati Cioè penso che siamo stati fortunati Che abbiamo trovato un villaggio E abbiamo potuto rubare Delle casse De Che cacchio abbiamo preso Del Letto Del pane Destinata ai bambini Speriamo Speriamo di no Speriamo che siano destinati a A quelli in carcere Dai Ai Cumpà Ingiustamente Garcerada Ok Ok Volevo farla un po' spaziosa Non volevo fare Tipo un buco Un buco hobbit Anche se effettivamente Potrebbe essere un buco hobbit Una tana hobbit Anche perché con i miei piedi pelosetti Potrei Entrare di diritto nel club Nella tenuta dei pelopiedi Ok Allarghiamola un pochino Perché Oh C'è anche del rame Nice Devo capire come fare la porta Ok Effettivamente se Se inizio e finisco di scavare Un pezzo forse è meglio Ok Allarghiamoci anche Alla derecia O la sinistra Evidentemente derecia E destra Forse ho fatto una castroneria linguistica Zum 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 Ok Ok Che bello perché Non c'ho mai giocata Minecraft Mi cade sempre a solito Con fietta Perché all'inizio Da giovinotto Quando è uscito Minecraft Avevo un computer che Non rangeva neanche Paint No seriamente All'ultimo blocco Ottimo E perciò Non c'ho mai giocato Poi quando sono diventato Ricco e potente Ho giocato a di tutto Tranne che appunto Minecraft Ok Appiazziamo il banco da lavoro Piazziamo Una cassina Due cassine Che si sono anche unite Per fare un baule Granderrimerrimo E Cosa stavo dicendo Appunto Col computer nuovo Che è questo attuale Cosa possiamo fare intanto Ok Infatti immaginavo Ci fosse una fornace Per Per cuocere Il rame O Il ferro L'unica cosa È da capire Ok Immagino che ci va Del carbone E ci fa anche luce Che bella atmosfera Che crei E non Nel senso Ho giocato a di tutto Tranne che a Minecraft Appunto perché Ho giocato a League of Legends Ho giocato Una leva Una bottola Una torta Posso fare la torta? Veramente? Secchio E zucchero E il grano Allora se non sbaglio Il grano L'uovo Dovremmo trovare tutto Ci manca solo Qualcosa per fare il secchio Come si fa il secchio? Ok Il nostro primo obiettivo È fare Una torta Una torta di Torta Una torta di torta Una torta al che gusto? Al gusto Di torta E appunto Non ho mai giocato a Minecraft Ecco Una cosa che non sopporto È che devo Ogni volta aprire E chiudere le cose Non c'è tipo un sistema Che Mi apre in automatico Sta roba qui No? No vabbè E non sono Ok Sto registrando già da un bel po' E Perciò Inizia Che tra poco finisce il video Finisco il discorso E Finisco il video E appunto Ho giocato a tanti altri giochi Ma Non ho mai Poi recuperato Minecraft Perciò Quale miglior momento Se no Per fare un video su YouTube Per fare Minecraft E dovrebbe essere anche L'ultima versione Se non mi sbaglio Cioè non lo so Sinceramente Magari ve lo metto Ah si c'è scritto lì 1.19.4 Non so se è l'ultima versione Se è la precedente Io mi sono affidato A Xbox All'Xbox Pass Ho premuto Gioca E lui mi ha fatto partire Questa versione del gioco Perciò Si Eccoci nel mondo Di Minecraft Direi che per oggi La finiamo qui Anche perché Questi piccoli Ma grandi passi Sono stati Sensazionari Ci vediamo al prossimo episodio E ciao ciao Amici biscottoni